L'estate sul litorale Domizio non finisce ancora, ma riparte. Conferenza stampa di presentazione della rassegna estiva a Giuliano. Una serie di appuntamenti per grandi e bambini, sia in centro che in fascia costiera, fino a fine settembre. Un momento di aggregazione per la cittadinanza intera, ma anche per il commercio. Il calendario, illustrato dal sindaco Nicola Pirozzi, prevede eventi culturali, tra storia e tradizioni enogastronomiche, all'insegna della socializzazione e dell'allegria, con ospiti illustri del mondo dello spettacolo e della musica nazionali e locali. Ai nostri microfoni la soddisfazione del primo cittadino. Si inizia il 31 agosto con la Kharkiv Chamber Orchestra, donne ucraine musiciste che si esibiscono nella nostra città, per ottenere sempre un ceso, un faro sulle problematiche dell'Ucraina. Abbiamo dovuto scegliere questo evento nella Collegiata Santa Sofia, giovedì 31 agosto alle 20.30. Poi l'evento Clou ci sarà il 15 settembre, con alcuni protagonisti di Mare Fuori e con Crazy J. A riguardo ringrazio la produzione Pico Media, Rai.com e la Rai per aver concesso agli artisti di essere presenti nella nostra bellissima città e all'Advi Eventi, che ha organizzato questo cartellone di fine estate. Ma il nostro concetto è quello di tenere eventi aperti in città per gran parte dell'anno. Quindi abbiamo eventi di vario genere, come diceva lei, eventi culturali come Scipio Il Sogno, eventi musicali come la musica classica napoletana, con Mr. Hyde per esempio e Emiliana Cantone, per chi è amante del genere, Paolo Cagliazzo, alcuni protagonisti di Made in Sud. Quindi è un cartellone molto variegato.